Avrebbe ucciso la prozia per ricevere un'eredità di 500.000 euro facendola ingerire del cibo che non avrebbe potuto mangiare. Svolta sulla morte di Maria Basso, l'ottantenne esagese, ex funzionaria della Farnesina, morta a Catania nel 2022 in circostanze sospette. Arrestata infatti dai carabinieri di Acicastello con il supporto della compagnia di Aciriale Asiago, la pronipote 59enne catanese, accusata di circonvenzione di incapace e di omicidio. Un vero e proprio progetto criminale, quello della pronipote, secondo lato d'accusa della procura di Catania, la 59enne infatti, avrebbe fatto sottoscrivere all'anziana un testamento pubblico con cui veniva istituita come unica erede universale e a soli due giorni dalla sottoscrizione dell'atto ricostruisce la procura. La pronipote, contravvenendo alle prescrizioni mediche, avrebbe portato fuori a pranzo l'anziana facendole mangiare cibi solidi a lei vietati, provocandone dopo qualche giorno la morte per gravi difficoltà respiratorie. C'è la soddisfazione che viene portato a termine un percorso che ha durato più di un anno nell'ambito della fase delle indagini preliminari con una grave incriminazione. Speriamo ora che la giustizia possa fare il soccorso per acclarare le responsabilità di questi fatti che sono molto gravi e che hanno colpito una famiglia, quella appunto dei Cugini Basso. Soddisfatto Roberto Rigoni Stern, avvocato della famiglia Basso, ma anche sindaco del comune di Asiago, a chiedere giustizia non solo alla famiglia ma anche tutta la comunità isaghese. È stato un fatto questo che ha colpito profondamente gli asiaghesi perché la signora Basso peraltro era ospite della casa di riposo Villa Rosa che è una casa in cui lavorano molti nostri cittadini che le prestavano assistenza e le portavano conforto. Grazie a tutti.